Aspettiamo, aspettiamo perché magari sarebbe anche, io ho le mie idee molto chiare, però vorrei intervenire sinceramente dopo la formazione, se ci sarà la formazione del governo, perché altrimenti rischiamo, sono oltre due mesi che non si riesce a partire, il Paese è fermo, io sono molto preoccupato, abbiamo un Parlamento ingessato che non fa niente, governo che non c'è, noi come sapete abbiamo questioni, ma Napoli come altrove, adesso ci sarà il coordinamento dei sindaci, tra qualche giorno a Torino ci riuniremo, noi siamo molto preoccupati, perché non avere risposte da mesi, quindi non avere il Paese risposte da mesi per l'incapacità evidentemente di fare un governo, anche con una gravissima responsabilità di una legge elettorale, tra l'altro incostituzionale, voi sapete che ho firmato anche per il ricorso alla Corte Costituzionale, però c'è preoccupazione, quando faranno la storia io commenterò la storia. Ironicamente lo dicevo ovviamente, no vabbè non lo so magari…